Salve a tutti, ci capita spesso di sentir parlare di strutture, di mercati strutturati e mercati non strutturati e ritengo che le strutture siano veramente i fondamentali per un trader un trader non si può definire tale se non conosce bene come leggere le strutture sul mercato supporti e resistenze, quando si parla di strutture si parla di supporti e resistenze perché la verità è che, e tutti i mercati, tutti i cross ve lo possono confermare andandoli a vedere ai mercati piace rimanere sulle strutture, piace rimbalzare su dei supporti, avere delle resistenze sono cose che avvengono in continuazione è quindi fondamentale capire quando un mercato sta lavorando su strutture si sta soffermando su strutture o quando il mercato è destrutturato o non strutturato ho preso quindi due esempi per capirlo perché a volte cercarlo di spiegare a parole è più difficile di quello che poi è nella realtà ho preso due esempi, andiamoci a vedere un attimo nei grafici un esempio è su il dollaro australiano e il canadese ho qui un time frame ad un'ora qui c'è un esempio classico di mercato non strutturato guardate, qui immaginiamo che questo sia il nostro punto di partenza vedete come da questo punto di partenza magari lo vado a disegnare il mercato fa un new structure law quindi c'è una nuova struttura che rompe la struttura precedente sia come chiusura della candela che come ombra e va quindi a definire una nuova struttura al ribasso abbiamo un outside return, abbiamo visto in un precedente video come si comportano i mercati e qui abbiamo un non abbiamo un new structure law perché non abbiamo superato il law precedente quindi abbiamo semplicemente un higher law quindi abbiamo creato un il mercato ha creato un basso più grande qui abbiamo un un lower high per quale motivo un lower high? perché non abbiamo superato questo livello di struttura ancora un lower low higher high e vedete come questo è un mercato altamente non strutturato perché non non insiste su nessuna struttura non ci sono praticamente supporti o resistenze l'unica struttura si viene a formare su questo double bottom qui doppio minimo in questa parte tra l'altro è andato in squisitamente in profitto ma questo è un mercato non strutturato bene quando il mercato non è strutturato quello che di solito rimuove un attimo tutte le linee quello che di solito capita è che si formino dei pattern armonici e qui ad occhio se ne riconoscono due in particolare ci sono due cipher pattern che si sono formati nell'arco di quanti? due giorni guardatevi lì vi ricordate le regole del cipher senza che ogni volta le ripeto comunque questo sarà il nostro punto di partenza e tra l'altro sono andati entrambi in profitto guardate adesso prima avrei disegno e poi vi vado a verificare i livelli di fibonacci li avevo verificati ovviamente prima quindi lo starting point quell'impulse lag AB BC qui stiamo sul ritracciamento 127 e mi pare circa qui si va a chiudere il primo cipher allora questo è un cipher vi faccio vedere che è un cipher con il livello di fibonacci vi faccio vedere che il primo la prima leg si tocca il 38 e non supera il 61 vedete? quindi assolutamente valida e vi faccio vedere che come si forma questa la C la B C la leg B C parto da qui armoniche eccola qui 127 l'ombra tocca il 21 ma non supera il 141 il ritracciamento al 141 quindi perfetto completamente valido e poi vediamo con fibonacci X C si deve posizionare sul ritracciamento 78 e 6 eccolo qua toccato quindi ho sbagliato non lo tocca qui ma lo tocca qui che cosa ci dice quali sono le regole di questo pattern armonico che non appena tocchiamo il 78 e 6 il mercato ci aspettiamo che il mercato ci aspettiamo di andare long quindi che il mercato inverta la tendenza e si vada a posizionare sul target primo profit il primo target per il nostro profit è sul 38 e 2 di che cosa come lo andiamo a calcolare lo andiamo a calcolare da eccolo qui toccato con questa candela se non l'avesse toccato questa l'ha comunque toccato quest'altra quindi primo pattern armonico andato in profitto il mercato continua ve l'ho fatto vedere prima continua però ad essere molto destrutturato perciò vi faccio vedere il secondo pattern cipher che si è formato intanto ve lo disegno questa è l'impulse leg l'impulse leg si la prima è questa quindi 1 2 AB BC e dovrebbe essersi averlo toccato completato in quel punto adesso lo guardiamo con fibonacci intanto vado a cambiare colore lo faccio blu così lo potete vedere meglio magari aumento un pochino lo zoom allora fatemi andare a vedere dove effettivamente si è completato quindi dobbiamo andare a vedere da X a C armonico 77 scusate 78 e 6 l'ha toccato qui quindi già qui era valido e vedete il mercato ha avuto un momento di compressione di incertezza stava per ritracciare stava per invalidare o meglio per andare a toccare il nostro stop loss che di solito si posiziona al di sopra dell'impulse lag della X dell'impulse lag però se andiamo a vedere come il mercato poi si è comportato come si è comportato in avanti vedete che siamo andati a prendere il profitto all'incirca in questo in questo punto quindi mercato altamente non strutturato pattern armonici due pattern armonici attaccati quasi uno dentro l'altro uno in long e uno in short uno a comprare e uno a vendere tutti e due in profitto vediamo invece un esempio di mercato strutturato bene un esempio classico su cui tra l'altro sto facendo parecchie operazioni è il mercato del pound yen il cross pound yen e guardate in che che bella struttura che si sta è un trending sto su time frame 4 ore quindi medio medio alto e qui siamo in rialzista in trending rialzista e lo vediamo chiaramente guardate come si sta da questo starting point new structure high outside return new structure high outside return new structure high ancora outside return guardate come si muove in maniera perfetta sembra telecomandato e che cosa notiamo in queste strutture in questa in questo movimento rialzista è qui che voglio farvi notare come il mercato insiste su determinate strutture guardate la prima impulse leg determina questo livello che viene usato come struttura sull'outside return di quest'altro di quest'altra leg vedete come il mercato si poggia qui per poi rialzarsi si alza e crea questo new structure high abbiamo un outside return che di nuovo si poggia usa come supporto la struttura dell'high precedente che rompe quindi new structure high e vedete come il mercato si riposiziona all'incirca sulla struttura precedente e lo fa praticamente per tutto quanto il tempo magnifico la struttura di questo di questo mercato e ovviamente in questo trending ci sono tante opportunità per per andare a per andare a comprare ops rimuoverla è anche questa per andare a vendere per andare a comprare quindi ci sono enormi opportunità di guadagno perché possiamo decidere di andare a a vendere in questo punto o ad acquistare in quest'altro punto qui addirittura c'è quasi un abcd pattern andiamo a vedere se c'è fibonacci se si ferma sul 38 e 2 si qui c'è un bellissimo un bel abc pattern tra l'altro quindi molto facile anche da giocare eccolo qui anche questo quindi tantissime opportunità come vedete ci sono sempre tanti modi per poter guadagnare per poter entrare in operazioni con operazioni sul mercato ce ne sono in mercati non strutturati e ce ne sono in mercati strutturati e sono diverse le strategie mercati non strutturati andremo a lavorare con i pattern armonici non solo ovviamente ce ne sono altre strategie pattern e mercati strutturati andremo invece a lavorare su strategie completamente diverse spero di aver chiarito un po' le idee su che cosa si intende per struttura e non struttura di un mercato veramente su questo vi chiederei di esercitarvi tantissimi perché sono i fondamentali sono l'arsenale delle frecce che avete a disposizione per poter operare con profitto sul mercato bene io vi do appuntamento al prossimo video intanto buon trading a tutti grazie 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 grazie